Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Sangue Rosso Nero, vi invito sempre a iscrivervi al canale e a mettere un like Allora ragazzi, le pagelle giorno dopo post Lecce Milan, diciamo che la partita con i ritmi e quello che era, insomma anche i voti delle pagelle saranno magari un po' falsati rispetto a quelli che sono i valori veri e propri in campo però c'è da dire comunque che qualcosa di buono si è vista Allora, iniziamo da Donnarumma praticamente poco peroso, dunque senza voto quasi, oserei dire Bene comunque Chier, sei e mezzo, fin quando c'è stato, continua a dar sicurezza Ripeto, con le dovute cautele, il Lecce veramente era molto molto indietro atleticamente dunque non fa manco testo, però i voti li diamo comunque, sei e mezzo a Chier, sei e mezzo idem a Romagnoli Tranquillissimo dietro, Teo, sette nel primo tempo, fin quando ne ha avuto, spingeva, è andato vicino al gol Con una bella conclusione da fuori Conti a me, nonostante l'assist, non mi è piaciuto ugualmente Gli dò un 5 e mezzo Benasser, sei e mezzo, meglio rispetto al Benasser visto contro la Juventus, ma ci voleva poco Ha recuperato palloni, ha smistato come al solito L'ho visto anche più propositivo del solito Cassi, buccia di banana, ugualmente Il 5 è fisso con me, non me ne frega niente Non mi è piaciuto minimamente, anche ieri Poi per quanto riguarda invece, c'è la Noglu un bel sette Perché ha sfornato due assist Il tiro sulla respinta in cui ha segnato una avventura è stato il suo Dunque molto bene c'ha la Idem Castileio, si impegna e corre sempre avanti e dietro Dunque come al solito è stato molto utile E soprattutto Mrebic in fase difensiva Molto utile, ha corso come un matto Si vedeva che aveva voglia di recuperare da quella che era la figuraccia fatta in Coppa Italia Dunque ha anche segnato Un sette anche a lui ci sta tutto Leao io non me la sento di dare un voto Perché è entrato quando il Lecce aveva ormai staccato sia fisicamente sia psicologicamente Dunque i subentranti io non mi sento di dare alcun voto Per quanto riguarda complessivamente Pioli ha messo in piedi una formazione equilibrata e giusta Bella aggressiva, compatta per quella che era la partita in un campo comunque sempre difficile in cui giocare Ripetiamo il nostro calendario e ora ci vede impegnati con la Roma, Spal e poi Lazio e Juventus Dunque dobbiamo cercare di fare i più punti possibili se vogliamo realmente sperare in un quinto o sesto posto Se la società lo ritiene un obiettivo Perché io continuo a dire ragazzi che ho dubbi che a causa dei finanzi a fair play L'arrivo in Europa League possa essere nonostante quelle che sono le scinghie allargate dalle ultime normative che la UEFA ha emanato Può essere comunque un ostacolo al mercato che andremo a fare con Ragnic Dunque non lo so Sono abbastanza titubante che si voglia andare in Europa League Io spero di sì perché ci tengo, l'ho sempre detto Però le prossime partite saranno veramente indicative Postilla su quelle che le dichiarazioni dell'agente di Cianoglu Che oggi ha rilasciato le dichiarazioni felice al Milan eccetera eccetera Ma punta a giocare in Champions League Cioè allora tu stai tre anni che stai a Milan Cianoglu avrà zeccato tre partite su 38 stagionali all'anno Dunque complessivamente in tre anni avrà zeccato otto o nove partite in tre anni In tre anni eh Stati zitto perché con lei ci era andata bene Ora vedremo Cianoglu, vedremo il tuo caro assistito È facile parlare quando gioca bene Parla quando gioca a mano, cioè quasi ogni domenica Dunque vedremo ora dopo con la Lazio, con la Roma eccetera, con la Juve Vediamo Cianoglu che cazzo combina in campo Questa era la parentesi Questo era tutto raga Delle pagiare al volo Concentriamoci su quella che è la prossima partita che andremo a fare Perché comunque la Roma Non sappiamo che Roma troveremo Però Casino societario che ha la Roma dobbiamo approfittare Magari in campo avremo una Roma non del tutto con le idee ben chiare E magari un po' in confusione E soprattutto Speriamo poco motivata Però l'allenatore Fonso è chiaramente bravo Dunque dovremo stare molto attenti Chiudo sulla porcata che abbiamo visto ieri Bologna e Juve chiudo Ciao a tutti raga Ciao a tutti